Adesso noi professore se l'abbiamo sempre un po' utilizzata come bussola, no? Perché sono tante le opinioni che si raccolgono, d'altronde questo virus è una nuova esperienza per la politica, per gli scienziati, per i medici, per tutti noi, quindi bisogna un po' orientarsi. Allora il tema di oggi, domani si riaprono le comunicazioni tra le regioni, ci sono regioni che hanno tanto virus e regioni che sembra ne abbiano molto poco. Quanto è rischioso che si metta in comunicazione queste zone del paese? Ma allora, io credo che il rischio è direttamente proporzionato al comportamento degli italiani. Abbiamo sentito l'appello del Presidente della Repubblica, oggi non sprechiamo tutta la fatica che abbiamo fatto per arrivare fin qui e questo io vorrei rinforzarlo, perché è soltanto attraverso l'applicazione di alcune misure di buonsenso che conosciamo, cioè tenersi le mani pulite ed applicare il distanziamento sociale, che questo virus si ferma, perché il virus non ha le ali e quindi è ovvio che il paese deve ripartire, non può continuare ad essere fermo e di certo le regioni e le persone non possono continuare a rimanere isolate. Certo, le persone devono fare tesoro di tutto quello che abbiamo imparato in questi cinque mesi di convivenza forzata.